poi blocchiamo dalla discesa qua davanti occhio Anna oggi tu eh i medici qui ricordiamo c'erano due medici occhio tizio ho vinto anche qua prendere il fuoco presa ho vinto ho tirato una qua da qua una eh tiro una con bombetta eh l'ho preso piena qua dietro l'angolo a sinistra niente subito subito qua ho preso qui non so se erano tre non ho idea qui c'è quello con la bombetta sicchi lì c'è un'altra preso ok stava dietro al fuoco non lo vediamo non chiudere la porta qua bene porca puttana qua se li abbiamo proprio massacrati bello oh l'extended mia che c'ho quella normale mi causo tutti i colpi sì sono due sopra di noi e uno in fondo nord ovest due sopra sopra poi sopra così più avanti però sopra di là più avanti però sopra di là dove è il tipo? eh no un è bruciato eh no un è bruciato fatico sono provato uh pieno pieno in fondo in là verso 0 tra 15 usciamo andiamo cazzo vado mai strato due sono qua sopra questa casa qua uno sopra uno sotto uno sopra uno sotto hai preso e l'hai ucciso ma l'ho preso non l'ho preso reverendo era qua sul tetto uno ha colpito i meliquan due su e uno giù nel capare ora prego oh aca presa una sopra qua sempre dove sei legno hai sparato no si è affacciata qua la finestra lì eh lo vedi questo quale adesso che c'è il fieno? si ok è morta lì appena appena a sinistra del fieno quindi se la tirano su proviamo a imbroccarli? no cioè ah vai vai più alto è esplodato prima cazzo adesso non vedo se la tirano su no ma è esploso prima è esploso sul tetto oh sta tirando qualcosa ah un AIVA tirato no ha tirato una granada che esplosa al rossi apparire dell'AIVA dai un'occhiata se si avvicinano gli altri fai un secondo eh ah ma siamo solo noi questi e quelli fuori cazzo si è vero che pirla pensavo ci fossero altre due io di quelli fuori ho visto solo un T1 con la camicia bianca oh sono a destra ecco infatti a destra mi hanno colpito due volte oh 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 perchè mi hanno sfettato ho visto di nuovo ancora solo il T1 io ah 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 insomma uno qua davanti a me qua oltre in oltre io schifoso davanti a me ho colpito ah ah mi ha colpito oh l'altro mi ha colpito sto ricaricando quando non lo so il carabino sto ricaricando qua ah mi ha dato fuoco cioè capito ho preso uno ho preso l'altro vai guanti c'è solo quello vai guanti c'è solo quello dove è davanti a te sì dietro di guanti dietro di guanti dietro di guanti però ho preso di qua ho preso ho preso ho preso ho preso ho preso vedete Oh, aspetta Sicchi hai ancora bounty? No, certo Forza Un secondo, mi pare Ho messo di curarmi perchè ho scambiato lo zombie per un altro tizio Eh, anch'io l'ho visto correre, ho pensato fosse lui Hai ancora bounty, Sicchi? Un secondo Eh, questi sono messi malissimo, però, eh Sono morti due Faccio un 360 No, guarda davanti, sono solo l'ordo Non c'è tanto davanti Davanti? Sì Eh, scusami, verso la cosa, verso dove eravamo noi primi Verso sti vuoto Ho perso l'orientamento perchè sono morto, aspetta Di qua, verso lì Sono in due, c'è un gruppo lì e un gruppo lì Due macchie Eh, io proporrei di andare qua al rifornimento perchè sono completamente scarico Cioè, c'è tantissima roba Cioè, c'è tantissima roba Una tipa era qua Però io questo qua stava guardando dietro che non l'ho preso L'altro col Pax e Martini Oh, aspettate che faccio il cambio con Martini the Dye C'ho le Martini the Dye, Sicchi, lo vuoi? No, no, no Sì E l'altro era più avanti Dai, no, andiamo al rifornimento, facciamoci Ho riuscito a vedere carmio Ho riuscito a vedere carmio La Matt, Mark e... Quella Nord? Sì, è diventa Nord No, 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 guarda, è qua vicino È sotto la cosa del licorio di Stillwater Ah, sì Eh sì, non si vede perchè ha bruciato la Matt Sì Quindi erano lontani? Eh, sempre lì Allora, di loro c'era il reverendo Una T1 Oh, stanno tirando una bi-bomb davanti a me Sono qua al rifornimento Non 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 sono qua in mezzo alla cosa Eh, ti tiro una di un covid, porco dio Eccolo lì, eccolo lì, per rifornimento Eccolo lì, eccolo lì L'hai stannato proprio? Qua! Mi prendo qua Sono divisi, pure qui Uno qua da me Ma appena sparato non capisco dove Sì, è perfetto Fuori, mi sai Vedi, guarda, siamo Sì Sì Porco dio, non muore Eh Una l'ho presa Che è la seconda che ho preso Però non ho capito come ha fatto a non morire con un colpo E vabbè, faccio in per Ma non ce ne ne abbiamo più vero, no? No Era un tipo, eh? Eh, uno era qui mezzo agli altri E' quello che ho stannato col covid Da quel capotto lungo marrone Eh, allora, reverendo Sì, reverendo è quello che ha sparato a me Ve l'ho fingato quando ho detto uno è qua No, in quel momento l'ho visto saltare fuori Guarda che forse sono due reverendo Eccolo, lo spara L'ho visto Dietro qua? No, mi sembra più a sinistra Ah sì, scusa Sì, scusa Guarda tipo da lì Eccolo lì Ma c'è altro da qua dietro questo come un'altra qua Un po' a sinistra? Oh, c'è un'altra ancora Sì, sono due Sì, scusa Il reverendo è già morto, eh? Come è già morto? Eh, una volta è quello che ho preso sul tetto Ah! Shoot to kill Dai, sembra Non ce l'ho qua Ho sentito correre dietro a quest'albero qua Ho sentito correre dietro a quest'albero qua Ecco, ho ucciso uno zombie là Da qualche parte qua Wow, a sinistra Reverendo No! Il cazzo è finito intanto Da dietro Bello Però c'è un'altra in fondo Ecco Eh dai Vabbè, vabbè Non lo capisco Era, non lo so Di fronte a me non lo so Davanti a te Ah, ecco non esiste Vinga Lì sono due reverendo Lì sono due reverendo Ho salito Ho salito Vai vai vabbè Ho salito Ho salito Ho salito anch'io Porco dio Questo è uno Questo è uno Oh, edge shot Che culo Con la spite Ma che culo di merda Vai dietro quel cumulo davanti a me Dove sono morto Era lì, occhio eh Sempre lì Impinto, preso Bello Mamma mia Che partita Non è che se abbiamo da lootare qua Server wipe eh L'abbem preso tutti noi Cazzo Topper Best un'ora ever che abbiamo mai avuto su sto gioco Ho salito